Saluto da Dottor Palmas, ti mostro un altro caso risolto di denti fissi con sistema bocca bionica. Il paziente arriva al mio istituto con una bocca completamente distrutta dalla parodontite, denti gran parte perduti, erano rimaste poche radici, storte, ingiallite, consumate, con degli ampi difetti anche a livello osseo. In questo caso, quando abbiamo fatto l'RX, abbiamo notato che c'era poco osse a livello dei seni macellari, avremo dovuto risolvere con degli impianti inclinati. Questi sono i provvisori che abbiamo montato dopo la chirurgia. Il paziente è stato con questi provvisori sei mesi. Abbiamo posizionato impianti sei nella parte inferiore e sei nella parte sopra. Questo è il grafico 3D del tipo di chirurgia che abbiamo eseguito. Sei impianti in mandibola, quattro impianti nella mascella superiore anteriore più due impianti speciali pterigoidei nelle zone posteriori. Su di questi abbiamo messo tutta l'arcata, poi provvisoria sopra e sotto. Vedi qua la TAC tridimensionale sul lato sinistro prima dell'intervento, denti mancanti, fuori dall'osso. Nel lato destro invece vedi tutti gli impianti inseriti nell'osso, compresi gli impianti pterigoidei. Paziente, a questo punto abbiamo creato un design di quelli che sarebbero stati i denti che avremmo voluto ricreare all'interno del sorriso per decidere così le forme e la disposizione. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto con una linea superior nell'arcata superiore, un'altra superior nell'arcata inferiore. denti iperrealistici, nota come lo smalto artificiale sia traslucente verso la zona dei margini cisali, come le gengive simulano la gengiva naturale. È la festonatura che le gengive aiutano a conferire questa forma di denti reali grazie alla festonatura che gli è stata simulata. Questi sono i denti nella composizione delle labbra. Nota come la gengiva sia indistinguibile da una gengiva naturale. Denti perfettamente integrati all'interno del display del sorriso. E questa è la linea superior vista da vicino. Nota come la luce colpisce le superfici della gengiva artificiale, le superfici dello zirconio. Un sorriso molto mascolino, vivo e soprattutto ampio, come era ampia la bocca e il sorriso del paziente. Questo paziente monta in bocca la linea dentale più avanzata al mondo, progettata partendo da delle scansioni di denti reali. Questi sono denti che esistono, scansionati, che sono stati riprodotti poi nella bocca del paziente roboticamente. Possiede una copia di backup dei suoi denti in cloud. In qualsiasi momento noi possiamo andare a riprodurre i denti che sono stati tra l'altro adattati nell'occlusione con intelligenza artificiale. Spero ti sia piaciuto questo caso, dai una sguarda a tutti gli altri.